Blu Blu è quella linea che ha legato la tua vita, la tua agonia e la tua triste fine. Quella piccola linea blu del braccialetto della tua squadra, nella quale ridevi felice e giocavi, seguita da quella grande linea blu che rividi in quell'ospedale, continua sul muro. Il blu, il colore dei tuoi occhi, che io successivamente ti assegnai, ti seguiva come un'ape insegue il polline. Quel bianco, che era spaccato dalla linea blu, diventò il mio tormento. Quei colori li ho quasi sempre visti con Michele, Lorenzo, Lucrezia e Giulia. Sì, sono i miei, i tuoi, i nostri compagni di viaggio. Quel viaggio in cui noi eravamo solo gli spettatori. Questo viaggio in un'arena dove hai combattuto con la tua croce. Quella croce capovolta, resa una spada contro la morte. Quella spada che era la tua luce in un'arena di ombre. Un combattimento interminabile, durato due mesi. Il tempo di solito scorre veloce, ma stavolta i secondi sembravano ore. Hai combattuto e noi abbiamo sempre sperato che potessi farcela. Abbiamo creduto fino in fondo alla tua vittoria. Ogni tanto ti scrivevo, anche se non potevi leggerlo. Ma sapevo che la tua mamma prendeva il tuo telefono e ti leggeva i messaggi per darti forza. Leggere l'ultimo accesso che risaliva al giorno mentre eri in ospedale ci rendeva felici. Ci faceva sperare che ti eri ripresa. È arrivato poi quel maledetto giorno. Quel 16 gennaio hai lasciato la spada e non l'hai più ripresa. Il telefono iniziò a vibrare. Era partito il gruppo del Campo Scuola 2014. Com'è ripartita te e noi con te? Danzavi verso l'alto. C'erano Lorenzo, Giulia, Lucrezia e Michele in ospedale. Erne in lacrime e aspettavano l'altra guerriera. La tua mamma. Ormai non c'eri più. Però hai inseguito uno dei tuoi sogni. Quello di viaggiare. Sei in quattro luoghi dell'Italia. Torino, Pergamo, Roma e Bologna. Quel blu ormai non c'era più. La mia pagina bianca era diventata grigia. Quel grigio che ha coperto il blu che mi legava a te. La mia pagina bianca era diventata grigia. La mia pagina bianca era diventata grigia.